Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento un gioco di ruolo, che è stato un po' un fulmine a ciel sereno ed ho conosciuto anche per sbaglio, perché ho visto passare un'immagine su Facebook qualche tempo fa, circa un mesetto fa, gioco ovviamente della Acheron Games, che ringrazio di cuore per avermi offerto questo manuale della Quick Start Edition, non è la versione finale, anche perché il gioco sta venendo recentemente finanziato e vi lascio il link in descrizione, quindi quella che vedete qui davanti è unicamente la Quick Start Edition, che vi permette un po' di farvi un'idea e una prima partita. Di cosa si parla? Si parla, come potete vedere, dalla copertina di Luvatown, un gioco pazzo, fuori di testa, dagli stessi autori di quell'altro gioco fuori di testa che è Brancalonia, o che anche hanno ristampato in una nuova edizione dopo tanti anni un capolavoro come l'ex Arcana, che io non vedo l'ora di portarvi sul canale perché è uno dei giochi di ruolo con l'ambientazione più bella, e poi nostra, l'antica Roma, che sia mai esistita. Di cosa parla? Ve lo dico a breve, dopo la sigla. Luvatown, gioco italiano a cura di Acheron Games, è un titolo che ci porta nel paesaggio più folle e fuori di testa della nostra immaginazione, ovvero a vivere in un mondo di cartoni animati, anni 20 o anni 30, ma non cartoni animati normali. Cartoni animati che sono l'esaltazione del nostro mondo con tutti i suoi lati più grotteschi che se ne potrebbe portare dietro in una scia di sangue, devastazione e quant'altro, perché è un mondo folle di cartoni animati, altamente violento, quindi è quella la cosa che mi piace da morire, che rimanda anche un po' come idea principale, se volete, ma solo come idea perché poi qui è totalmente differente, a film come che ha incastrato Roger Rabbit o a capolavori di fumetti nel numero forse uno dei più belli di tutta la saga di Dylan Dogg che è I conigli rosa uccidono, o anche Horror Paradise, era anche un altro forse titolo che ci si avvicina. Cos'è Luvatown? Luvatown è un quartiere di New York, quindi è un quartiere che tutti sanno che esiste, non è un quartiere segreto, nella New York di questa ambientazione, che è la New York dei nostri giorni, chiunque sa che il quartiere di Luvatown esiste, ma non sanno come accedervi, quindi per quanto se ne conosca l'ubicazione e la presenza, è quasi impossibile accedervi, quindi accedere a Luvatown è qualcosa di molto raro, e chi non si sa effettivamente se ci sia un modo oppure no. All'interno della città dell'Uva c'è un mondo tutto quanto in ambientazione cartoon, ve l'ho detta, di quell'epoca, quindi siete catapultati dentro un mondo violento di cartoon animati dove potrete andare a interpretare umanoidi, animali, quindi la classica volpe vestito magari da un mafioso, dei tempi di Al Capone o Dick Tressi, quell'ambientazione lì col segano in bocca, oppure potrete essere anche dei semidemoni, come la ragazza che vedete qui in copertina sulla macchina, che tra l'altro è uno dei personaggi più famosi dell'ambientazione perché è una specie di subrette, Betty Boop, ed è anche molto molto malvagia, oppure anche cose inanimate, oggetti, mi viene anche in mente un po' ad esempio La Bella e la Bestia, dove ci sono le tazze che parlano, quindi potrete essere un mobile, perché no anche nel film Karts, anche direttamente una macchina, o perché no magari una mazza da baseball che va in giro per la città a smazzolare tutti quanti. Quindi in questo gioco voi andrete a vivere in questa Eluvatown, che è il classico posto di perdizione, di mafia, di gioco sporco, di il nostro mondo, dove i ricchi comandano, la mafia fa il bello e il cattivo tempo, i deboli le prendono, i poveracci sono costretti a lavorare 15 ore al giorno, per poi magari dopo tornare a casa, boh, passare a vedere un film al cinema e quando esci ti rapinano e scappano, quindi proprio era meglio se te ne stavi a casa, è un'ambientazione completamente folle. E qui nella Quick Start Edition, che è una demo di quello che uscirà, tra l'altro è riportato anche soggetto a cambiamenti, è quindi quello che leggete qui davanti, gratuito, link in descrizione a Acheron Games, potete andarlo a scaricare in PDF. La versione che vedete qui davanti, fisica, la regalavano al Play di Modena, quindi comunque se passavate da loro questo manualetto di 20 pagine, 25, ve lo regalavano stampato, ma lo potete stampare per conto vostro scaricandovi il PDF dal sito speciale di Acheron. Vi dà tutto per giocare, ci sono personaggi pregenerati, ci sono le regolette di base, che poi le regole del gioco ricordano anche un po' l'alba di Cthulhu della Serpentarium, perché si gioca con le carte qui, non con i dadi. Ciascun giocatore avrà un mazzo da poker, si vanno a pescare di solito due carte, come dice appunto il regolamento base sintetizzato in demo qui dentro, e andandolo a girare si sommano i valori e con questi valori, più ovviamente una parte dell'abilità del personaggio, si va a dare una difficoltà alla prova e vediamo se la prova è superata oppure fallita. Quindi come gioco è molto semplice, è il pescare due carte e andarle a sommare. Ovviamente bisognerà guardare anche il seme, perché anche il seme ha un significato all'interno del gioco, ma quelli che contano sono i valori sulle carte, laggiù dove il jolly è un successo, un successo grandioso, tutte le altre carte invece si sommano direttamente i valori. In questa ambientazione c'è una specie di acme, come avete visto in tutti i cartoni animati, l'unitunz e cose del genere, e infatti i vostri personaggi in questa ambientazione si chiamano i toons. Quando voi incontrate un png, non è un png, è un toons non giocante, i vostri personaggi se si incontrano in città, si definiscono, come diresti, non lo so, un essere umano nei confronti di un'altra persona, un uomo, una persona, no, qui siete dei toons. E la cosa che li rende così particolari e potenti, li dà tipo dei, tra virgolette, superpoteri, è l'ink, l'inchiostro, che ci sono vari tipi di inchiostro, però ovviamente in un'ambientazione del genere l'ink se lo possono permettere soltanto i ricchi, i facoltosi, ai poveracci e ai disgraziati non è concesso, quindi cosa fa la mafia e tutto quanto c'è un po' di smercio di questo ink. Sottobanco, a buon prezzo, e questo ink vi dà la possanza. Messo in termini di gioco vi dà dei bonus a fare un'azione, oppure ve la fa superare automaticamente, però poi dopo diventa il toon, diventa stunato, diventa stonato, che qui è stunato, nel bellino si sta, e quindi rimarrà tipo catatonico, oppure semplicemente potrebbe avere una perdita di capelli, oppure li si potrebbero staccare alle braccia e finiscono per terra, oppure potrebbe andare in catalessi svenuto per terra per tre settimane, non si sa, infatti è quella la cosa bellina, tabella va anche a descrizione del master, quindi utilizzarlo ti rende un supereroe, però ha ovviamente una cosa negativa quando poi ne va a scadere il potenziale. Questa ambientazione è carina perché la dovete vedere come un cartone animato, quindi evitate magari il bazooka, evitate una K47 che buca e ammazza un altro, sì, è un'ambientazione violenta, è un'ambientazione cattiva, ma si tratta sempre di cartoni animati, quindi magari, classico, come vedete in un cartone animato, uno con un revolver in mezzo che te lo punta, ti spara, ti chiudi gli occhi, e invece che uscire un proiettile, esce un cazzotto che ti stende, oppure semplicemente fanno esempio di armi, che ne so, un lancio a patate atomiche radioattive, oppure, non lo so, una spada che quando la impugnate inizia a cantare, pezzi blues di quell'epoca, quindi comunque è un'ambientazione che la dovete vedere matta, folle, e qui ci vuole un master, secondo me, abbastanza esperto, perché deve riuscire a ricrearvela, capito? Cioè, qui sarete seguiti a Luvatown, rincorsi da patate vestite da poliziotti, con un randello in mano, oppure andrete al porto a parlare con gli uomini pesce che vengono dalla luna, che magari sulla luna nemmeno c'è acqua, quindi, oh, se non sotto forma di ghiaccio, quindi è proprio un'ambientazione che deve essere il più folle possibile, però ovviamente deve essere ben impacchettata e nel suo insieme credibile. È un gioco veramente interessante e vi ripeto, se vi interessa fare il Kickstarter o il GameFund, che dir si voglia, primo link è in descrizione, perché sta venendo finanziata in questo periodo, io lo voglio assolutamente, con tutte le espansioni, perché mi garberebbe, faccio anche un'avventura con il mio gruppo, insomma, mi garberebbe, ecco, provarlo a portare anche in live sul canale. In conclusione, questo è l'UvaTown, non posso dare un verdetto vero e proprio, perché quello che vediamo qui è una demo, c'è un regolamento, no, scarno, perché poi è anche abbastanza, cioè, è tutta ambientazione sto manuale, e le regolette che ci sono, più le schede dei personaggi prefatte, non ve lo potete fare da zero, basta in avanzano per impacchettare, ma anche se secondo me è una partita che dura diverse sere una mezza campagna, perché vi dà tutto l'occorrente, però, cioè, non c'è nulla di quello che ci sarà nel manuale, e poi magari sarà anche un po' soggetto a cambiamento, valuteremo poi. Per ora, se vi posso dare un consiglio, siete giocatori di ruolo, che cercate qualcosa di particolare, andate, tanto lo trovate in descrizione, sul sito della Acheron Games, e andate a scaricare il PDF, perché è gratuito. Quello che vedete qui, io ce l'ho stampato, ma è lo stesso preso dal PDF, quindi lo scaricate, lo provate, e se vi diverte, fate direttamente il GameFound. Per me, passate a pieni voti, e non vedo l'ora di provarlo nella versione finale, o anche con questo farci una partitella. Ciao ragazzi, alla prossima!